Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami La mia passione per la musica è nata in maniera abbastanza ancestrale, cioè fa parte del mio DNA Io vengo da una famiglia di musicisti per cui il fatto che io a 5 anni avesse avuto già l'occasione di esternare questa mia passione per la musica è risultato abbastanza naturale, per cui a 5 anni ho cominciato a studiare, ho studiato la fisarmonica fino a 14 poi ho avuto una folgorazione per quanto riguarda l'amore nei confronti della chitarra che mi porta fino a tutt'oggi e mi porterà fino alla fine dei miei giorni Invece, come mai ha deciso di farsi promotore di questa iniziativa che oggi portate in scena qui nel Teatro Traetta di Bitonto? Beh, intanto mi lega, la mia storia mi lega alla Puglia, fin da quando abbiamo cominciato a fare il nostro mestiere in maniera particolare poi a Bitonto, con il quale ho dei legami di amicizia, di simpatia, di frequentazione ho diversi amici, uno dei quali si chiama Nino Mancazzo, che è un produttore di olio straordinario l'altro è l'attuale sindaco di Bitonto, che ho visto aver fatto un sacco di cose fantastiche in una città che ne aveva bisogno quando io vedo che delle persone fanno del bene a una terra che io amo, non posso fare altro che ricambiare l'amicizia e il rispetto che queste persone hanno nei miei confronti, per cui mi è stato proposto di fare questo accostamento tra un testo basato su dei libri fondamentali della storia dei ragazzi e la mia musica, allora ho pensato che fosse una di quelle cose che non avevo mai fatto fino adesso, per cui siccome mi piacciono le cose nuove, gli esperimenti e le novità, ho detto beh perché no, ed è una buona occasione, non l'ho ancora fatta la mattina abbiamo fatto le prove, però immagino che sarà una cosa molto divertente ed emozionante perché è la prima volta che mi accade Cosa secondo lei è indispensabile per ottenere l'indipendenza da qualsiasi cosa? E quindi un po' ricollegandoci allo spettacolo di questa sera? Ma credo che l'indipendenza di cui si parla in questo spettacolo sia sicuramente dalla droga da quelli che sono i canoni, soprattutto quelli negativi Io credo che sia difficile slegarsi completamente da quelli che sono gli stereotipi piuttosto che le figure che rappresentano la nostra cultura, la nostra formazione Diciamo che bisognerebbe cercare di essere non dipendenti da tutte le cose che sono negative che possono fare male, le frequentazioni, gli atteggiamenti, il bullismo e il fatto che se uno non si droga o se non beve alcol non si diverte alla sera tutti questi stereotipi che creano dipendenza E queste sono dipendenze che non fanno bene Direi, non per andare contro a quello che è l'incipit di questo spettacolo che probabilmente bisognerebbe avere degli altri termini di raffronto Io stesso quando ero bambino, oltre ai miei genitori, avevo delle figure di riferimento Le figure di riferimento più belle, più oneste, più sorridenti sono e meglio è per chiunque perché ti danno la possibilità di intravedere un futuro bello al quale, come si può dire, coniugarsi al quale fare riferimento per essere cittadini del mondo Secondo lei la musica può realmente salvare o aiutare ragazzi o persone che si trovano in questo tipo di difficoltà? Ma diciamo, tanto per cominciare la musica non ha mai fatto male a nessuno a parte quella piccola minoranza che nei testi dice si, sgozzate le vecchiette oppure andate a fare rapine in bar ma di là di quello, la musica è una cosa che fa bene la musica è una cosa che unisce le persone la musica è un linguaggio che comunica indipendentemente dal fatto dalla distanza e dalla religione, dai credo politici, economici e via via discorrendo per cui la musica sicuramente può essere un legame tra i concetti che dicevamo prima cioè di fratellanza, di amicizia, di fare le cose per il bene del prossimo oltre che per se stessi e gli altri vedo che la musica soprattutto fatta assieme è una caratteristica di unione di fare delle cose belle assieme poi io dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo se è vero che Dio ci ha fatto con due orecchie e una bocca vuol dire che dobbiamo stare ad ascoltare più il doppio di quello che diciamo per cui essere musicisti è un po' essere questo dobbiamo riuscire a sentire anche gli altri quando hanno qualcosa da raccontare e poi a nostra volta quando il caso è nei canoni in cui uno si accorda con gli altri e avere anche qualcosa da dire perfetto, grazie mille ci può fare un saluto a tutti i follower della pagina da Bitonto e di Radio Doppio Zero? assolutamente sì un arrivederci a presto, un ciao, un grazie e forza Bitonto che ci siamo in pieno e a presto, ciao Radio Doppio Zero Radio Doppio Zero suona ciò che ami, più suona e più la ami